Allora, a scuola e all'università, traduciamo sul serio, perché una cosa che mi ha colpito, impressionato e a tratti un tantino urtato del rissoso dibattito sulla seconda prova che ha accompagnato con qualche nervosismo, qualche isterismo, gli ultimi 3-4 anni di dibattito sul liceo classico. Io ho avuto anche il discutibile piacere di discutere a mezzo stampa con Maurizio Bettini sull'argomento, una discussione un po' rude, devo essere sincero, ma talvolta gli argomenti ai quali si è legati ci inducono a scaldarci un po'. È normale, è umano, non ci si può scambiare anche qualche parola dura, però dicevo, se tanto discusso di seconda prova, si è parlato di traduzione più o meno lunga, in 4, in 6, in 8, in 2 ore, con quesiti di ordine mitografico, artistico, culturale, storico. Una prova di dottorato a tratti, nelle fantasie di qualche universitario che non ha la più pallida idea di cosa sia la scuola. e la vede da molto lontano, però su cosa sia effettivamente il tradurre non si è spesa una parola. Io capisco bene che la prova di maturità sia il telos aristotelico al quale tutta la didattica mira e che inevitabilmente condiziona tutta la didattica anteriore. Va benissimo, ma parliamo anche di ciò che si fa, forse divertendosi troppo poco, con la traduzione per tutti i cinque anni precedenti. Questo mi pare un tema almeno altrettanto rilevante. Sullo sfondo, qui intravedete, con molta fantasia diciamo, una pagina manoscritta che è di quell'Edoardo Sanguinetti che Ivano Dionigi citava prima. È la sua traduzione dell'Iffigenia in Aulide Euripidea. Vedrete qui la scrittura ruffata di Edoardo Sanguinetti, che è stato un gigante intellettuale del secondo novecento italiano, è morto pochi anni fa. Chi non l'ha ancora incontrato a scuola lo incontrerà, un uomo che parlamentare a Montecitorio nel 1980 nelle pause dei lavori parlamentari traduceva l'edipore di Sofocle, come oggi, proprio esattamente come oggi, ha tolto le parole di bocca il professor Dionigi. Questa è la sua quasi ultima traduzione. Ecco, guardate lì, c'è un conto. Bisognerebbe rovesciare lo schermo, ma riuscite a decifrarlo. 1629 meno 1382 uguale 237. Potete immaginare cos'è. È il conto dei versi che mancano. L'interminabile ifigenia in aulide, che consta effettivamente di 1689 versi, il povero traduttore si appunta a margine, ma quanti ne devo tradurre ancora di questi maledetti trimetri per arrivare in fondo all'ifigenia. È un marginale simpatico che guardo con affetto e tenerezza, perché Edoardo Sanguinetti è stato una persona importante nella mia vita, è un caro amico. Ma perché vi mostro questa curiosità? Ve la mostro perché il tradurre da professionisti, il tradurre sotto contratto, il tradurre per uno scopo, è un mestiere immondo. Diceva Luciano Balenciardi, che è stato un grande scrittore, un grandissimo traduttore, di Polkner, di Abimiller, eccetera. Tradurre è una fatica fisica da sferratori. Tradurre è infernale, significa misurarsi con difficoltà insormontabili, significa fallire. Ci sono pagine famose di Lutero, traduttore piuttosto influente nella cultura occidentale, sulle giornate intere passate per catturare una parola, una sola, per riuscire a renderla nel modo migliore. A scuola traduciamo, facciamo questo. No, facciamo una cosa completamente diversa, ci misuriamo con portazioni di test molto limitate. Soprattutto cerchiamo di capire, tutti noi professori, attraverso la traduzione, se avete, il voi è rivolto agli studenti naturalmente, capito qualcosa della grammatica delle lingue da cui traducete. Questo è l'uso principale che noi facciamo nella traduzione, ma non è l'unico. E forse non è nemmeno l'aspetto centrale e rilevante del tradurre. Io adesso passerò, non leggete, quindi leggerò io, a un esercizio col quale spesso comincio il laboratorio di traduzione che la nostra preside evocava prima. È un esercizio tramite il quale io cerco di invitare gli studenti a fare un esercizio sulla lingua italiana. La Medea la conoscete ovviamente tutti. Qualcuno l'ha già tradotta? Qualcuno sì. Ecco, siamo a un punto abitale della Medea. La povera eroina si è appena sentita dire da Giasone parole irritanti come poche e reagisce dicendo Qui avete, aspettiamo il passaggio della nube, avete un certo numero di traduzioni che occupano uno spazio abbastanza ampio della storia traduttiva italiana di questo testo. Ve ne leggo qualcuna, finché la nube non giova. Ho scellerato. Questo è il peggior insulto che posso pronunciare con la lingua contro la tua viltà. Io intanto vi invito a pensare di che anni potrebbero essere queste traduzioni. Vorrei sentire qualche risposta, è un esercizio che vi pongo sul serio. Ho scellerato. Questo è il peggiore insulto che posso pronunciare con la lingua contro la tua viltà. Tu infame. Questo è l'insulto più grande che posso proferire con la lingua contro la tua codardia. Avile. Scellerato. Io non so trovare nel mio linguaggio altra parola che pareggi la tua viltà. Infame. Di più non posso offenderti con le parole per la tua disumanità. Disgraziato. Non so quale più grave ingiuria ti può fare la mia lingua per codesta viltà. Io tutti gli anni chiedo ai miei studenti di trovare la più vecchia e la più recente fra queste traduzioni. Il gioco, temo, non lo possiate fare perché vedete appena le traduzioni e non potete aver memorizzato quello che vi ho detto. Però sono pressoché identiche. Ritornano con... Però qualcuno ci sta provando. Le prime file ci stanno provando. Allora sentiamo. Qual è la più vecchia? Avile. Scellerato. Io non so trovare nel mio linguaggio altra parola che pareggi la tua viltà. È vile. Scellerato che ve lo fa pensare forse. Viltà. Però viltà ricorre. Medea s'arrabbia con Giasone e Pancachiste gli dà del vile da un bel po' d'anni o dello scellerato. Gli dà anche del disgraziato ogni tanto, come vedete. Insomma, queste traduzioni sono fondamentalmente traduzioni molto simili l'una all'altra. Questo è il punto che mi interessa. Eppure occupano 50 anni secchi di storia italiana. Avete indovinato. Avete preso la più antica. Però non so se avreste preso la più recente. Cioè non so se tu, infame, questo è l'insulto più grande che posso proferire con la lingua contro la tua codardia, l'avreste mai datata al 2004. Proferire, codardia. Poi c'è un altro aspetto che colpisce in queste traduzioni. Capirete fra un attimo perché indugio così a lungo su questi due versicoli della Medea. Con cosa insulta Medea Giasone? Con la lingua. Che risulta essere l'unico organo fonatorio a disposizione dei greci, esattamente come a nostra disposizione. Si insultava con la lingua in Grecia, esattamente come a nostra disposizione. Il greco ha glosse, uno strumentale. E uno strumentale non possiamo che tradurlo con il con. Queste sono le parole che posso proferire con la lingua. Ma cosa vuol dire Medea? È un pleonasmo. Mi piacerebbe soffermarmi di più ma non indugio. Medea sta dicendo una cosa molto più sottile e complessa. Sta dicendo per ora questo è il male che da me tu ricevi glosse. Che sottintende ergo con le azioni, con i fatti, da me avrai ben altro danno. È un'allusione sinistra, atroce, alla vendetta che Medea ha già in animo di compiere. Se traduciamo con la lingua, con la lingua questa allusione evapora. Totalmente. Eppure se traduco con la lingua sono fedele. Inciampo in uno strumentale, lo strumentale vuole il con. Quindi stiamo parlando di specie di fedeltà che sono già ben diverse l'una dall'altra. Fedeltà ad un livello, che è quello così rudemente linguistico-grammaticale. Fedeltà ad un altro livello, che è quello delle risonanze, delle intenzioni. E, su tutto, direi, osservando questi versi, troneggia la costanza impressionante del lessico, del lessico tragico, che usiamo per tradurre questa battuta cruciale della tragedia, dagli anni 50 a oggi. Un abisso in termini di storia letteraria e linguistica del paese. Un abisso. Eppure la lingua dei tragici rimane quella traduttese, traduzionese. La lingua convenzionale in cui noi facciamo parlare i tragici e tutti gli autori antichi. La fatica del recuperare la parola viva, di cui parlava Dionigi prima, è molto spesso vanificata da quelle convenzioni linguistico-traduttive che rientrano nel fenomeno che mi è capitato di battezzare così. Traduttese, in realtà, è parola che pizzicò proprio sanguinetti. Era un grande cacciatore di neologismi, fra le altre cose sanguinetti. Ha curato anche l'appendice delle nuove parole del dizionario Battaglia. Ha collezionato neologismi tutta la vita. E nel 1980 trovò, in un testo che qui non ci interessa, un testo di filologia e romanza, la parola traduzionese. E subito la osservò. Un vocabolo neonato, battezzante un gergo, gergalmente desinente inese, il traduzionese. I vocabolari oggi registrano traduzionese, traduttese, comincia a entrare la parola. I traduttologi la usano da tanto tempo. Che cos'è il traduttese? È una lingua molto standardizzata sul piano del lessico. Faccio scorrere le slide per mia sicurezza, diciamo, ma voi non le vedete. Ascoltate quel che io dico. Standardizzato il lessico del traduttese, nel senso che certe parole si possono tradurre con certe altre parole, punto e basta. Caratterizzato da arcaismi lessicali assortiti. Quando noi traduciamo le lingue antiche, io parlerò del traduttese classico, quando noi traduciamo le lingue antiche, soffriamo immediatamente di quello che un poeta traduttore, espressione simpatica che a me piace ripetere spesso, Valerio Magrelli, ha chiamato il jet lag traduttorio. Cioè noi traduciamo oggi, mi pare se in titoli così l'incontro di oggi, tradurre oggi, ma il jet lag traduttorio fa sì che noi regoliamo la nostra lingua sulla lingua letteraria di 40, 50, 100 anni fa. Le nostre tragedie sono tradotte secondo il linguaggio della librettistica d'opera. E quindi regoliamo l'orologio traduttivo su qualcosa di ancora molto più lontano. Sistematica con presenza di stilemi disomogenei. molti qui sono piccoli, ma i professori conoscono senz'altro una delle stroncature più celebri della storia degli studi classici, quella che è Eliot, inflisse al povero Gilbert Murray nel 1920 Euripide e il professor Murray, atroce già dal titolo, in cui osserva che Gilbert Murray, il grecista insigne, il traduttore per la scena di Euripide e non solo, mescolava linguaggi letterari delle più varie epoche, che è quello che facciamo spesso noi quando traduciamo, noi traduttori professionisti. Mettiamo insieme linguaggi che vengono da ambiti, da correnti, da epoche, da età diverse della lingua italiana, sul piano morfologico e sintattico. La traduzione intraduttese di fatto resta legata a quelle abitudini scolastiche che prima ho sintetizzato tramite il CON, calchi della, calchi convenzionali, della sintassi, della morfologia, più elementare, spesso delle lingue antiche. Non traduzioni, ma segnalatori grammaticali. Quando noi traduciamo un costrutto implicito antico, sia esso ablativo assoluto, cum narrativo, cosa usiamo? Participio congiunto. Cosa usiamo? Il gerundio. Il gerundio, che è un modo che ha un'incidenza statistica risibile nell'italiano reale, è un modo che va per la maggiore, come è noto nelle traduzioni. Io avendo preso un autobus sono arrivato a scuola, è una frase che non credo pronuncereste, ma Cesare avendo superato il rubicone si è messo nei guai. Questa invece ci suona. Riduzione dell'unità traduttiva alla singola parola. Tradurre verbum de verbo, diceva un traduttologo antico piuttosto celebre. Per noi tradurre dalle lingue antiche è tradurre la singola parola, e guai se saltiamo una particella. Dolori immensi di tutti noi apprendisti del greco, perché il greco strarippa di appunto, in vero, erano così enfatici nel parlare. E passi per me ne idee che almeno ci orientiamo da una parte e dall'altra, ci suona un po' strano, questo isocrate pieno da una parte e dall'altra, però almeno sappiamo come rendere, ma gli appunto sono terribili. e il montanario e il rocci per un un, ci danno 25 traducenti possibili, uno più drammatico dell'altro oserei dire, perché nessuno riesce a stare in un brano sensato. Ogni parola va tradotta, la nostra unità traduttiva è il singolo lessema. Sul piano stilistico, tendenza spiccata alla traduzione epesegetica, dopo ve lo dovrò spiegare questo concetto. Traduciamo non la lettera ma il senso. Non traduciamo quello che un autore dice, ma traduciamo quel che un autore vuol dire. Sostituiamo spontaneamente la spiegazione al testo letterale che dovrebbe essere il nostro venerato oggetto di lavoro. indifferenza verso fenomeni di carattere retorico espressivo, scarti stilistici, eccetera. Io sto parlando di un traduttese che non è un problema a scuola. A scuola si deve passare per il traduttese. È obbligatorio. Il punto è che il traduttese in ogni lingua, in ogni training traduttivo si passa per il traduttese. Il problema è che il traduttese di cui ho censito così un po' rozzamente le caratteristiche più spiccate è un male che affligge non le fasi propedeutiche dell'imparare a tradurre, ma arriva fino alla più squisita traduzione professionistica dei classici antichi. Il genere critico letterario Lamento sulle sorti del classico occupa interi scaffali di biblioteche, ma è raro imbattersi in quel genere letterario in una riflessione seria su come traduciamo i classici, come li traduciamo, come li facciamo parlare. Selezione del lessico Un testo è quasi di sicuro classico se non si arriva ma si giunge, se non si critica ma si biasima, se non si pensa ma si ritiene, se non si è presi ma si è sempre colti dall'ira e da altre cose brutte, se non si è capaci o esperti ma si è valenti, se non si umilia ma si disonora, se non si soffre ma ci si affligge, se non si imbroglia ma si inganna, se non si chiede ma si interroga, potrei andare avanti a lungo. Ciascuno di voi dal primo anno all'ultimo del liceo, gli studenti universitari, noi docenti, siamo in grado prendendo una di queste parole traducente cristallizzato in italiano di dire cosa c'è in greco e in latino immediatamente. Possiamo fare la retroversione immediata. Il Ro ci strarippa ancora di fanciulle e fanciulli. Il Montanari ha eliminato questa specie scomparsa da tempo e ha introdotto ragazzi e ragazze ma non sempre perché comunque i fanciulli e le fanciulle in tutti i derivati di Paes continuano a fare capolini non si riesce a liberarsi e parola apprendo con sconcerto ancora in valsa tracotanza io non ho mai capito cosa fosse in italiano non ho mai capito cosa fosse la hybris naturalmente conosciamo diciamo questo tesoro di vocaboli che sono tracotanti e ogni tanto se ne incontra insomma tutti conosciamo questo tesoretto di vocaboli che sono i nostri ferri del mestiere lessicali per tradurre il greco e il latino poi sono lingue antiche quindi è giusto anticarle qualsiasi cosa si traduca no? sia che si traduca il più spigliato Aristofane sia che si traduca il più compassato Sofocle è giusto che si crei una sorta di lessico convenzionale che ci aiuta a orientarci in questa materia difficilissima che sono le lingue antiche ma quando ci liberiamo di questo lessico nell'ambito della traduzione professionistica classica ci si libera pochissimo da questo lessico altri indizi ma non voglio soffermarmi troppo sui dettagli finché le nubi ci aiutano lascio questa diapositiva sullo sfondo questi sono indici della natura tradotta di un testo che si possono misurare a livello computazionale un piccolo esperimento che abbiamo fatto con alcuni studenti del collegio superiore dell'università di Bologna un paio d'anni fa hanno mostrato che la macchina il calcolatore opportunamente istruito per andare alla ricerca di certi indici linguistici riesce a distinguere un testo tradotto dal latino e dal greco rispetto a un testo nativo italiano con una sicurezza del 92% se lo fa una macchina vuol dire che questi indici sono quantitativamente enormi e non abbiamo utilizzato non ci siamo andati a cercare traduzioni atipiche o mal riuscite abbiamo cercato traduzioni standard abbiamo attinto a collane divulgative diffusissime abbiamo saccheggiato il sito studenti.it che i presenti non faranno finta di non conoscere ovviamente eccetera 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 quindi il tradutese esiste è proprio un fenomeno linguistico che merita di essere studiato se col macchina si riesce a insegnare a un computer a riconoscerlo il tradutese ripeto ripeto un concetto perché certe mie riflessioni sul tradutese che ho pubblicato qualche anno fa sono state utilizzate lo posso dire anche onomastì facendo nomi e cognomi da Maurizio Bettini da Luca Serianni e da altri per ridicolizzare il lavoro che si fa a scuola con la traduzione e questo mi è molto dispiaciuto perché lo spirito con cui io vi sto dicendo queste cose e stiamo giustamente un po' sorridendo perché è un problema che conosciamo tutti è ben altro a scuola si deve passare per forza attraverso il tradutese è obbligatorio si deve passare attraverso qui vi ho messo un elogio di croce del tradutese va bene il croce ritenuto il teorico massimo dell'intraducibilità della poesia e in realtà traduttore di Goethe e di altri fa un bellissimo elogio del fatto che il tradutese è una fase del training linguistico attraverso la quale è obbligatorio passare in ogni lingua il punto è quando ce ne liberiamo il punto è quanto ce ne liberiamo e quando ce ne liberiamo e quanto possiamo trasformare la traduzione dalla poco per volta dalla idolatria di una resa unica e vera a un tentativo a un processo a un sofferto talora tentativo di approssimazione a qualcosa di difficilissimo che è capire la vita di lingue morte so che il politicamente corretto impone di chiamarle lingue non più parlate Gramsci diceva il latino lingua apparentemente morta però mi consentirete di dirle morte insomma lingue di cui ci sfugge il background lo sfondo che è vivo che è l'unica cosa attraverso cui percepiamo gli scarti della lingua e però laboratorialmente con lentezza con fatica con un po' di fantasia noi possiamo provare a recuperare nel tradurre la vita di quelle lingue noi dobbiamo passare attraverso il traduttese guardate vi mostro una pagina di traduttese illustre questo è il giovane pavese una traduzione ancora inedita del filottete sofocleo che risale dal 35 che traduce in traduttese la potremo leggere è tradotta esattamente è bruttissima è terribile tradotta esattamente secondo le regole che censivamo poc'anzi pavese stava imparando il greco pavese ha fatto un liceo sperimentale uno dei primi licei sperimentali della storia italiana liceo moderno si chiamava riforma credaro del 1911 è vissuto pochissimo perché gentile l'ha in realtà spazzato via poi è rinato è l'antenato del linguistico era un liceo senza greco per cui il povero pavese ha passato tutta la vita a cercare di recuperare il greco non studiato tra ginnasi e liceo e traduceva in traduttese la letteralità primitiva come la chiamava Ronconi è qualcosa attraverso cui dobbiamo passare poi un po' per volta dobbiamo liberarcene l'ambito classico fa eccezione perché solo nell'ambito classico a mia notizia la letteralità primitiva uso ancora l'espressione di Ronconi tende a diventare uno standard traduttivo invalso diffuso unico anche a livello editoriale teatrale altamente professionistico e questa è una caratteristica sulle cui ragioni storiche per ragioni di tempo io non mi soffermo per adesso e salto qualche diapositiva poi se volete per il dibattito ce le teniamo è un fenomeno che io oserei dire unico e che peraltro è peculiarmente italiano in altri paesi europei il fenomeno del traduttese come standard traduttivo pervasivo anche a livello altamente professionistico è molto meno diffuso che in Italia molto ma la ragione è banale in Italia abbiamo una più radicata e per fortuna tradizione scolastica delle lingue antiche quindi molti dei libri che vengono prodotti apparentemente per il lettore colto sono in realtà prodotti sotto sotto per la scuola prodotti per la didattica spesso per la didattica universitaria a quale livello traduttivo guardate questo è un piccolo frammentino così introduciamo un concetto importante cioè quando ci liberiamo del traduttese questo è un piccolo frammentino di anacreonte che se non avete già incontrato incontrerete perché tanto se non lo si fa sotto la voce lirici greci lo si fa quando si parla di retorica perché è un esempio in signe di poliptoto complicato dall'anafora cleobulo io amo per cleobulo impazzisco in cleobulo mi incanto al netto del fatto che non abbiamo la più pallida idea di cosa voglia dire di oscheo perché ricorre solo qui in tutta la letteratura greca però al di là di questo per fortuna abbiamo una noticina lessicografica antica che ci dice che vuol dire effettivamente guardare intensamente qualcuno per cui mi incanto fissando qualcuno un'ipotesi ecco il senso c'è chiaro la traduzione è corretta la vedete è correttissima qualcuno dei professori presenti avrebbe segni da fare su questa traduzione penso di no è irreprensibile ma contiene un tratto di infedeltà enorme gigantesco oserei dire e questo mi serve per capirci sulla nozione di fedeltà prima dicevo polidolum della traduzione unica e vera non si è fedeli a un testo si è fedeli a qualche livello di quel testo si è fedeli a un aspetto o a un altro questa i colleghi presenti i vostri professori hanno appena detto è una buona traduzione non segnerei né rosso né blu ci useranno ancora il rosso e il blu suppongo eppure io insisto contiene un tratto di infedeltà forte marcato che però non è infedeltà a quel livello di lingua sul quale noi fondiamo in genere in maniera totale e totalizzante la nostra nozione di fedeltà però contiene un tratto di infedeltà stilistica forte molto forte in greco l'ordine delle parole se preferite dico più pomposamente lordo verborum è marcato o non marcato mettere il complemento prima del verbo è un tratto di marcatezza è uno scarto è un forzare la lingua o è piuttosto normale è normale è decisamente normale in italiano mettere cleobulo prima del verbo è un tratto retorico altissimo no usate pure la parolina retorica appropriata questo tipo di inversione fa poesia alta fin da subito cleobulo io amo per cleobulo impazzisco in cleobulo mi incanto da questo punto di vista non è fedele qui l'anafora va tradotta con l'epifora se vogliamo essere fedeli all'ordo verborum standard normale sentito come naturale nella lingua questa traduzione di una studentessa del nostro laboratorio di traduzione specialistica amo cleobulo voglio cleobulo mi imbambolo è cleobulo cosa sentiamo finalmente il tono bambinesco capriccioso e fanciullesco di questi traversi e io credo sia più fedele questa traduzione fedele infedele fedele no parola la fedeltà parola che i traduttori usano con commossi accenti coniugali diceva Antoine Berman che è stato un grande teorico della traduzione la fedeltà lascio stare l'aspetto matrimoniale parlo solo di traduzione non deve essere un grezzo concetto che adoriamo la fedeltà quando si fa traduzione davvero è fedeltà a qualcosa e infedeltà a qualcos'altro non si può tradurre tutto si deve sapere e giocare a carte scoperte e dire cosa voglio tradurre queste due traduzioni sono fedeli a livelli diversi del testo non sono una fedele e una infedele a scuola dicevo e all'università fino alla fine dell'università dal tradutese si passa sul tradutese si deve stare come imprescindibile strumento glotto didattico punto però si deve sapere che è una delle tante convenzioni possibili più grave è quando il tradutese contagia la storia della letteratura questo è un orazio piuttosto famoso preso da una storia della letteratura piuttosto diffusa e io non vorrei essere nei panni del docente che deve spiegare il titolo viene dalla storia della letteratura medesima il più grande lirico dell'età augustea che Orazio è il più grande lirico dell'età augustea e scrive si saggia filtra il vino che è un errore di traduzione mastodontico in termini di traduzione professionale se un traduttore dal giapponese dall'inglese di un romanzo degli ultimi anni facesse di fronte a quelli che si chiamano i realia traduttivi un peccato di letteralismo in aliquis così marcato verrebbe probabilmente licenziato perché noi non filtriamo il vino che significa si saggia filtra il vino vi invito a far funzionare un po' di ironia leggete questa traduzione per quello che è un testo italiano cosa vuol dire si saggia filtra il vino questa è una traduzione che come traduzione non può funzionare senza una nota che mi spiega che il vino antico aveva certe caratteristiche enologiche tali per cui era bene non berlo subito ma farlo passare attraverso un processo di filtraggio è fedele questa traduzione? sì no sulla base di quello che abbiamo detto prima è fedele a qualcosa ma non è fedele a qualcos'altro la traduzione subunitaria guardate uso proprio esempi scolastici è un errore tipo non c'è manuale di traduzione da una lingua viva che non spieghi cos'è la traduzione subunitaria si chiama in tanti modi ma il concetto è sempre quello prima dicevo unità traduttiva legata ad una sola parola sempre facevo l'esempio un po' comico delle particelle greche che hanno per lo più funzione pragmatica non contenuto semantico e ma questo è un catullo che nei light parade dei testi lirici antichi occupa una posizione altissima e lì c'è un proverbio et quod with es per is eccetera eccetera c'è un proverbio che conosciamo nella sua natura proverbiale da più punti il proverbio è il caso da manuale di espressione che non si può tradurre parola per parola in cui l'unità traduttiva non può essere la singola parola pena l'incomprensione totale spesso proprio anche del contenuto semantico elementare e in molti casi comunque dello stile e ciò che tu vedi finito ritieni perduto manca completamente il bersaglio traduzione subunitaria perché analizza in maniera erronea le unità di traduzione qui l'unità non può essere la singola parola ma deve essere una juntura più ampia amarillida è bella? formosan resonare docessa amarillida silvas è bella amarillide nessuno ne discute ma quell'espressione è un'espressione unitaria anch'essa ben testimoniata che corrisponde al amo amarillide mi piace amarillide noi non diciamo amarillide beh non diciamo amarillide ovviamente non abbiamo occasioni di innamorarci di amarillidi ma non usiamo questa juntura per elogiare qualcuno ci perdiamo qualcosa di questo testo troiane oripidee terribile danza di cassandra appena riceve l'annuncio che finirà concubina amante di agamennone euforica folle danza di questa ragazza vergine consacrata una dea che attrae addirittura nel ballo in scena la vecchia ecuba una scena atroce quella tipica comicità grottesca tragicissima di euripide mi capitò una volta proprio lavorando sulle troiane in un liceo con alcune classi liceali di assistere a un dibattito interessantissimo che scatenò proprio una lotta fra le due fazioni traduttive cassandra si canta l'imeneo da sola si canta il canto di nozze da sola in questo terribile corale della corale in questa terribile monodia delle troiane si canta il canto di nozze da sola e ovviamente usa quel refrain che è tipico del canto di nozze antico i meni i meni i meni i meni i meni le due fazioni in lotta erano ragazzi della vostra età il partito che voleva tradurre a tutti i costi o i meni o i meni o i meni o il partito che voleva tradurre viva gli sposi io ho assistito diciamo cercando di mantenere un atteggiamento olimpico a queste due fazioni in lotta che avevano entrambe le loro ragioni perché l'una è fedele ad alcuni aspetti l'altra è fedele ad altri aspetti certo se la portiamo in scena e vogliamo far sentire l'assurdo l'assurdo l'atroce assurdo di questa scena forse oso troppo forse viva gli sposi è meglio perché come diceva Sanguinetti non esistono le note a piedi di anfiteatro e quindi non si può spiegare lì per lì che cos'è questo refrain epitalamico diffusissimo che accade se un testo deve far ridere che i problemi del traduttese emergono ancora più spiccati un personaggio aristofaneo che ha deciso di imparare la filosofia da Socrate e va a bussare sono le nuvole va a bussare al pensatoio non si può più tradurre pensatoio se noi giovani pensano Harry Potter questo l'ho imparato da una mia studentessa io lo ignoravo completamente ed ero legato alla vecchia traduzione pensatoio chiamiamolo pensificio va bene non importa tanto il suffisso greco dice poi quello dice un edificio adibito ad un uso specifico bene nel pensificio di Socrate tutto è filosofico anche il maggiordomo che apre la porta e parla pomposo parla in filosofichese parla in un linguaggio incredibile e quindi per rimproverare Strepsiade che ha bussato malamente alla porta dice hai preso a calci la porta aperimerimnos che è una parola che Aristofane inventa ad hoc nasce qui e muore qui questo roboante avverbio nella letteratura greca il vocabolario fa il suo lavoro cioè fa traduzione pesegetica cioè non traduce ci dice cosa vuol dire quella parola ma non ci dice come Aristofane la dice senza riguardo senza pensarci e i traduttori si attrezzano come possono tu non sei capace di meditare hai bussato senza criterio ma non fa ridere Aristofane si è inventato apposta una parola per far parlare costui come l'impostore che è come un così pomposo affettato inverosimile filosofastro tu hai bussato bestia che sei amazes gay ne dia per dio hai bussato una volta uno studente mi propose adialetticamente adialetticamente non so se fa ridere non fa ridere ma almeno è uno sforzo di andare verso la creazione verso il neoconio Aristofaneo una parola che non si è mai sentita e che deve fare linguadotta registro alto la traduzione letteraria serve solo ai professionisti e la lotta diciamo io credo senza quartiere che a livello professionistico dovremmo fare contro il traduttese serve solo quando si porta in scena una tragedia una comedia non credo serve anche a scuola e serve all'università almeno per tre scopi per riconoscere fronte docenti storie della letteratura coerenti e funzionali allo scopo e per forzare gli editori che hanno politiche editoriali dissennate a mettere in quei testi traduzioni che siano degne di quel nome perché le storie della letteratura alla scuola come all'università non le usiamo per insegnare la lingua che il suo traduttese lo deve avere tollerare e mettere a frutto le usiamo per insegnare la letteratura che è cosa ben diversa e sempre più spesso usiamo solo le traduzioni inevitabilmente per ragioni di tempo perché le ore sono poche perché l'alternanza scuola-lavoro ha tolto ancora di più quelle poche ore che il greco e il latino avevano penso si possa dire perché in realtà che tutto il paese vive per proporre esercizi di traduzione contrastiva attiva ancora recentemente la traduzione contrastiva passiva cioè guardo come hanno tradotto singoli passi i traduttori che vanno Safo 31 Safo 31 Fine Time My Kenos eccetera dal 600 a oggi è un esercizio difficilissimo bisogna avere competenze storiche linguistiche letterarie che non si hanno neanche ai più alti livelli di istruzione universitaria la traduzione contrastiva mi piace chiamarla passiva come la pratichiamo normalmente vi do il sparir le pleia di sparir la luna di foscolo e lo confrontiamo con tutti gli altri tentativi di tradurre quei versicoli saffici sì qualcosa si può ricavare può essere utile ma è difficile è molto difficile è un esercizio difficile è più facile forse la traduzione contrastiva attiva cioè cominciamo a giocare noi e mi pare che il professor Dionigi l'abbia detto prima di fatto con livelli diversi di traduzione giochiamo a carte scoperte mostriamo che esiste un tradurre per la prova di accertamento linguistico un tradurre per la scena un tradurre con note senza note con testo a fronte senza testo a fronte iniziamo a capire che l'unica certezza in traduzione è l'errore l'errore lo dico per tranquillizzare subito i ragazzi c'è e si riconosce benissimo in traduzione segni rossi e blu sono l'unica certezza della traduzione ma la traduzione giusta non c'è è un approssimarsi si traduce provando ad avvicinarsi a qualcosa la traduzione contrastiva attiva su piccoli esempi è più semplice di quella di quella passiva e ci aiuta a sfruttare la traduzione in un aspetto didattico che usiamo molto poco la lingua d'arrivo non solo la lingua di partenza la lingua d'arrivo i titoli parentali vogliamo un esempio dall'edipo a colono citato prima pater tecnon i titoli parentali usati come apostrofi l'edipo a colono non è strapieno ovviamente padre o papà visto che ieri era la festa del papà padre o papà antigo nel suo edipo come lo chiamerà padre o papà il problema è che il greco segmenta in maniera molto diversa rispetto all'italiano il greco classico il greco lenistico è un altro discorso i livelli di affettività per rivolgersi al proprio padre per cui in teoria né padre né papà sono del tutto corretti questi sono esercizi che mobilitando competenze linguistiche competenze traduttive ci aiutano davvero in maniera seria non tramite la mitologia a confrontare le culture nella loro talvolta abissale distanza e ci aiutano a usare la lingua d'arrivo a capire che la lingua d'arrivo ha registri infiniti per questo prima evocavo il turpiloquio esattamente come le lingue di partenza ci aiutano a vedere più vita nei testi che traduciamo e studiamo e ci aiutano magari a esperire target traduttivi diversi a provare a capire che la stessa traduzione è fedele e infedele a seconda di ciò che ne vogliamo fare a seconda dell'approssimazione al vero che decidiamo di privilegiare e questo trasforma la traduzione in quella meravigliosa cosa che dovrebbe essere cioè un esercizio antidogmatico un esercizio di pensiero in atto non amo dire pensiero critico perché non mi pare che serva aggiungere critico a pensiero pensiero in atto la traduzione deve mostrare sempre di più che tutte le traduzioni sono a qualche titolo sbagliate e che semplicemente ci proviamo ad approssimarci a quella lontananza abissale che sono le culture antiche grazie dell'attenzione